L'Agenzia Internazionale dell'Energia ha tagliato le stime di crescita della domanda di petrolio per quest'anno di 200.000 barili al giorno rispetto alle proiezioni di settembre. Anche nel 2015, dice l'organismo che riunisce le nazioni industrializzate, sarà più flebile di quanto inizialmente pensato. I prezzi nel frattempo continuano a calare a causa del rallentamento economico globale, ma anche del petrolio di scisto statunitense che si è riversato sul mercato causando un eccesso di offerta. Per un'eventuale riduzione dei livelli di produzione bisognerà attendere il vertice OPEC di fine novembre.